Siamo i protagonisti e occorrono anche Euro per abitanti investiti fino ai 70 di passi. Abbiamo un posto in evidenza per partire dai fenomeni. Sì, in particolar modo per la città di Firenze, per l'area della Toscana del Nord, è un momento straordinario per tutta la regione, legata anche agli accadimenti di questa notte a Livorno. È un tema che ci richiama a un approfondo senso di responsabilità e di approfondimento. Noi viviamo una stagione nella quale sono finiti i 25 anni di esperienza di Publiacqua che nasce appunto nei primi anni 2000. Gli enti pubblici stanno ragionando su come riformare, riorganizzare i prossimi 20 anni di gestione. È chiaro che questi tre giorni per noi diventano un appuntamento estremamente importante. Per quanto ci riguarda, un appuntamento che vedrà tutti i presidenti delle aziende toscane impegnate in una riflessione per giovedì, in quella sede cercheremo di trovare gli elementi che ci potrebbero consentire di avviare un'esperienza tutti insieme. Le nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici e dalla transizione ecologica rendono evidente la necessità di intervenire per colmare il gap infrastrutturale esistente nel settore idrico e per consentire il rispiegamento di una strategia nazionale di impiego della risorsa idrica in tutto il territorio nazionale, lungo tutte le fasi del ciclo idrico, dalla captazione fino al suo rilascio. Il governo è impegnato a tutelare al meglio la risorsa idrica e il territorio, due elementi così insinivelmente uniti dalla visione della strategia per il futuro. Gli ingenti investimenti infrastrutturali necessari a colmare questa differenza esistente devono essere finanziati facendo convergere in maniera continuativa risorse europee, italiane, pubbliche, private, risorse dell'istituzione locale, assegnando al compito di proteggere la crisi idrica una priorità strategica e ospecabilmente consentendo di considerare tali investimenti al pari degli altri richiesti dall'emergenza climatica che stiamo vivendo, al di fuori delle regole dei patti di stabilità.